In Francia la destra di Nicolas Sarkozy crolla nelle elezioni cantonali mettendo ancor più in discussione la riconferma del presidente all'Eliseo tra un anno. Si affermano i socialisti e il fronte nazionale. L'estrema destra guidata da Marine Le Pen ottiene l'11% dei consensi ma in alcune zone raggiunge il 40%.